E-Cube Challenge è uno strumento che abbiamo messo a disposizione per le start-up che siano società di capitali già costituite, che abbiano già dei progetti in qualche maniera pilota da presentare. Questi progetti noi li vorremmo raccogliere, più sono meglio è entro la fine di giugno, li vorremmo raccogliere e ne selezioneremo 10 che il 12 e 13 luglio premeremo poi in una giornata a Firenze. Questa è la scaletta, ma per maggiori informazioni abbiamo realizzato il sito web e-cube.it su cui c'è il regolamento, modalità e c'è la possibilità anche di interloquire con l'azienda o in gruppo extra per sapere informazioni, come fare le domande, quali sono i progetti che a noi interessano, le aree che privilegiamo rispetto ai nostri interessi e ai nostri obiettivi.